Nasce in Friuli Venezia Giulia il portale del marketing territoriale, uno strumento per incoraggiare gli investitori a venire nella nostra regione. Sì, è uno strumento che permette di avere tantissime informazioni da quali sono i contributi che si possono trovare sul territorio regionale, a quali sono le pratiche per insediarsi in Friuli Venezia Giulia, quali sono i lotti liberi dove si trovano i distretti industriali, i cluster produttivi piuttosto che tutte le attività in campo turistico. È una sorta di strumento per aiutare gli imprenditori che volessero insediarsi in Friuli Venezia Giulia o crescere in Friuli Venezia Giulia per prendere le migliori decisioni e quindi capire come investire in Friuli Venezia Giulia. Il portale è www.businessfwg.it E' anche georeferito questo portale, cioè consente di vedere quelle che sono le aziende della nostra regione, quante sono e dove sono? Sì, è uno strumento di business intelligence utilizzato dalle grosse multinazionali, messo a disposizione di tutti gli imprenditori, anche quelli piccoli o piccolissimi. Ci permette di avere georeferite tutte le unità produttive del Friuli Venezia Giulia, pensiamo alle partite IVA sono circa 90.000, le unità produttive in questa regione sono circa 300.000, quindi 300.000 georeferenzazioni in cui si sa assolutamente dove sono collocate le attività produttive per tipologia di settore, ma si può sapere in un clic sostanzialmente quali sono i lotti disponibili, quindi dove si può andare a insediarsi, dove il lotto è magari costruibile, dove c'è già un capannone costruito, che caratteristiche tecniche ha, quali sono i costi, insomma veramente avere una vetrina completa sulle opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia. Grazie.